Saranno presto in tournée in Puglia i Wurples, quartetto storico comico di origini tarantine, ambasciatori della solidarietà in Italia Michi Fiorentino, Angelo Spinelli, Beppe De Biasi e Sasa Stano lo stesso nome Wurples non è un inglesismo parola appartenente al mondo del web come wireless o endless Wurples è una parola del dialetto tarantino che significa polpolesso la specialità marinara tarantina e non solo che si trova sulle tavole delle città costiere prelibato al palato Wurples è la cottura del mollusco Cefalopode Octopus Vulgaris arricchito di condimento della dieta mediterranea olio, pepe, sale e limone insieme con i Wurples fanno da cornice la ballerina showgirl Rosaria di Napoli e l'attore comico San Giorgese Giorgio Meo spalla divertentissima dell'attrice Salentina Gegia nella trasmissione di successo Avanti Tutti Show i Wurples sono reduci da un nuovo lavoro dal titolo Balle di Sapone che hanno rappresentato in teatro a Roma e Modena le tappe del nuovo spettacolo in Puglia per i mesi di luglio e agosto saranno San Giorgio Ionico, Barletta, Andrea, Trani, Giovinazzo la terza al sesto festival del cabaret nazionale Martina Franca e Grottaglie la data di casa invece è per la fine di ottobre quando i Wurples saranno a Taranto dove si attende il sold out come accaduto a Roma e Modena è stato uno spettacolo bellissimo la gente è intervenuta numerosa abbiamo effettuato uno spettacolo di cabaret cabaret internazionale i prossimi impegni adesso a settembre probabilmente saremo a San Giorgio Ionico in provincia di Taranto e poi penso che per ottobre e novembre comunque in autunno saremo a Taranto Taranto città vi diremo poi dopo dove e allora tante ma tante risate buon appetito con il Wurples a presto